Attesa per l'incontro di lunedì a soci tra Putin e Erdogan, il presidente turco spera di convincere il leader russo a rientrare nell'accordo sul grano del Mar Nero. Papa Francesco invia un saluto al nobile popolo cinese durante la sua visita in Mongolia. Ai cattolici cinesi dice, siate buoni cristiani e buoni cittadini. Questa è la settimana dell'Africa Climate Week a Nairobi, più azioni concrete per la sfida africana al cambiamento climatico. Il nuovo acquisto delle Alilal, il giocatore serbo Aleksandar Mitrovic, il campionato saudita a tutte le carte per diventare uno dei migliori al mondo. C'è attesa per l'incontro di lunedì a soci tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, che spera di convincere il leader russo a rientrare nell'accordo sul grano del Mar Nero, da cui Mosca si è ritirata lo scorso luglio. Per rinnovare l'iniziativa, Mosca pretende dai paesi occidentali la rimozione di una serie di ostacoli che a sua detta mettono in difficoltà l'export russo. Intanto rimane tesa la situazione nel Mar Nero. Occasionalmente Kiev riesce ad assicurare la navigazione di alcune navi da carico, ma è sempre alto il rischio di attacchi russi. Domenica un porto nella regione di Odessa ha subito un bombardamento di droni di oltre tre ore. Il ministro degli esteri turco, Akan Fidan, in visita a Mosca giovedì, ha dichiarato che il rilancio dell'accordo per il trasporto di grano ucraino attraverso il Mar Nero è fondamentale per la sicurezza alimentare globale. La Turchia vuole che le parti in conflitto tornino all'accordo e lo usino come base per più ampi colloqui di pace. Domenica Papa Francesco ha inviato un saluto speciale al nobile popolo cinese al termine di una messa celebrata durante la sua visita in Mongolia. Francesco ha condotto all'altare l'attuale vescove merito di Hong Kong, il cardinale John Hong Tong e il cardinale eletto Stephen Chow, tenendoli per mano mentre inviava questo messaggio, che è suonato come un'altra rassicurazione nei confronti di Pechino. Profitare la sua presenza per inviare un caloroso saluto al nobile popolo cinese. A tutto il popolo gli auguro il meglio e andare avanti, progredire sempre. E ai cattolici cinesi chiedo di essere buoni cristiani e buoni cittadini. Papa Francesco si è poi unito agli sciamani mongoli, ai monaci buddisti, a un sacerdote ortodosso russo, per sottolineare il ruolo che le religioni possono svolgere nel portare la pace nel mondo. Francesco ha ascoltato con attenzione una dozzina di leader religiosi, spiegare le loro credenze e il loro rapporto con il paradiso. Il servizio meteorologico spagnolo ha emesso un'allerta per temporali intensi a Madrid nelle aree circostanti la capitale. Le previsioni, che parlano di 120 litri per metro quadrato, hanno indotto le autorità competenti a sospendere le linee ferroviarie e attivare i protocolli per le inondazioni. L'Agenzia dei Servizi di Emergenza di Madrid ha dato istruzioni ai cittadini di rimanere in casa ed evitare di usare le auto. Rinviata anche la partita dell'Atletico Madrid con il Siviglia. L'allerta meteo arriva a pochi giorni da un'intensa ondata di calore che ha colpito tutta la Spagna nel mese di agosto. Il cambiamento climatico è una realtà che sta influenzando il pianeta Terra in diversi modi. A soffrire gravemente a causa dei disastri naturali sono soprattutto i bambini. È l'allarme dell'ONG Save the Children. Quasi due milioni di bambini nell'Africa sub-sahariana sono diventati sfollati interni a causa degli eventi climatici nel 2022. Le fughe forzate dai paesi d'origine sono quasi raddoppiate lo scorso anno. Da un milione nel 2021 alla cifra record di un milione e 850 mila. Secondo l'ultimo report di Save the Children, migliaia di bambini non torneranno mai più a casa, vivendo gran parte della loro infanzia nei campi profughi, con le loro famiglie o in altri luoghi temporanei. Malama Mwila, uno dei responsabili regionali dell'ONG, chiede maggiore impegno e azione ai leader mondiali. Quando si tratta di implementare e proporre questi finanziamenti, c'è un po' di azione che ha avuto. Quindi il comitamento politico, soprattutto dal nord globale, ha scoperto. Vogliamo vedere più azioni da questi governi che hanno stato emittuato storicamente e contribuendo maggiormente alla crisi climatici. Quindi è l'unico che vogliamo vedere più azioni e meno a parlare. Questa settimana segna l'inizio a Nairobi in Kenya dell'Africa Climate Week, in cui politici, aziende e società civile si incontrano per discutere soluzioni climatiche in vista della COP28 di Dubai. Il punto di partenza sarà come affrontare le catastrofi naturali in Africa e come trarre vantaggio dal fatto che il continente è la popolazione più giovane del pianeta e in cui le foreste del bacino del Congo rappresentano uno dei polmoni del mondo. Ma anche se parlano di soluzioni e soluzioni che Africa è già preferringi e potendo in place. Per essere potenti che sia la loro lezione con l'entire. Climate change è un rischio rischio. As we're speaking today, there are wildfires in Canada che sono staggianti e staggianti in Canada. Ci sono fatti in Europa, in some parti di Europa e in China. Climate change è un rischio rischio, che non è immunizzato, e non risponde il territorio integrale, ma risponde tutti, se le persone sono in ricche o in paura. Perché il fatto che il cambio climatica è affrontando tutti, bisogna tutti essere sulle soluzioni. Scende una cortina di silenzio in sala quando Mario Laghinia comincia a suonare alla conferenza di Estoril. È uno dei più famosi gezzisti portoghesi e tra i relatori saliti sul palco per esplorare il potere salvifico della musica. Sono esperti nell'economia e parlano di numeri, numeri, numeri. E a volte dicono, diciamo, parliamo di persone, perché i numeri possono arrivare da persone che lavorano o da persone che non lavorano o che lavorano bene o non bene. Un mondo più umanizzato, è il focus del 2023 Estoril Conferenze. Con discussioni randingi di l'impacto dell'AI a la guerra in l'Ukraine, un obiettivo può essere in uniti per una cambianza positiva. I credo che la solidarietà è molto bene ma non è un fatto perché non solo la solidarietà ma anche la solidarietà della solidarietà è il Sinequano per la nostra giocattiva vittoria nel futuro. Con la presenza di premi Nobel, politici, scienziati e ambientalisti, la conferenza ha approfondito alcune delle sfide globali più urgenti permettendo alle giovani generazioni di confrontarsi con questi temi. Ci sono molti persone da molti diversi strumenti, la scienza è venuta qui e mi sento che è un'opportunità di imparare non solo ciò che è già esplorato ma ciò che è già venuto nel futuro. La conferenza di Estoril si chiude con una certezza. Agire ora per proteggere il futuro dell'umanità è un imperativo più urgente che mai. Come da tradizione la prima domenica di settembre si è tenuta a Venezia la regata storica uno degli eventi più antichi della laguna. La storica si è aperta con la sfilata cerimoniale lungo il Canal Grande di barche storiche condotte da veneziani in costumi d'epoca. Migliaia le persone assiepate lungo il percorso per ammirare la sfilata e poi fare il tifo durante le gare di voga. Ad aggiudicarsi la vittoria della gara più attesa quella delle gondole a due remi la coppia Matteo Zagnol e Nicola Trabuio. Formula 1 il pilota della Red Bull Max Verstappen vince il Grand Prix d'Italia a Monza battendo Sergio Perez e superando il record di vittorie consecutive in Formula 1 di Sebastian Vettel stabilito nel 2013. Sergio Perez ha lottato duramente per realizzare una doppietta Red Bull mentre Carlos Sainz ha resistito a Charlie Klerk negli ultimi giri per conquistare il terzo posto. Con la gara di domenica Verstappen è ancora in testa alla classifica generale seguito dal compagno di squadra. Fernando Alonso rimane terzo nonostante il nono posto di Monza. Il calcio mercato in Europa si è chiuso venerdì ma il ricco campionato saudita può ancora ingaggiare giocatori fino al 7 settembre. Finora la Lega Pro Saudita ha speso 805 milioni di euro per arruolare talenti europei. Subito dopo la vittoria contro l'Ali Tihad di venerdì Mitrovic racconta a Euronews la sua esperienza. l'Ali Tihad e il Saurio pro-league? C'è una buona performance per te? I'm a move myself here from one of the best Premier League. I think this league will have all the things in the future. In a few years, it will become one of the best leagues in the world. I think they have facilities, they have fun, they have people who love football. I think the players will more and more be open to come this league, especially when you watch games like this. I think maybe this is the future football in this country. I campioni dell'Alityad, dove ora gioca Karim Benzema, hanno provato la scorsa settimana a prendere anche Mohamed Salah per 150 milioni di euro, ma il Liverpool ha rifiutato e si è tenuto la sua stella. I Sauditi hanno ancora qualche giorno per concludere l'affare. di un'atmosfera. Tell me about the atmosphere. What was it like to play? And are nights like this? This is the night. This is the game that you love to see. To be honest, I never experienced this in any other league. And atmosphere for both teams. Our supporters as well. Beginning of the game, I think this was an amazing game. and this is for sure one of the reasons why I move here. The reception I get from the fans, from my teammates, is amazing. I'm really happy that... Three games so far, three wins. And still the beginning of the season, but I think we are playing good football. We create a lot of chances and we play football that everybody wants to see. Vittoria storica a stelle e strisce alla ventesima edizione della Maratona del Monte Bianco. Alla sua quinta partecipazione Jim Wonsley è il primo statunitense a vincere la gara maschile. Il connazionale Zach Miller e il francese Germain Granger sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Nella gara femminile la vittoria di Courtney DeWalter ha completato la doppietta statunitense. La vittoria al Monte Bianco è la terza dopo i titoli del 2019 e del 2021. La tedesca Katharina Hartmut e la francese Blandini Rondel si sono classificate seconda e terza. La Maratona segue il percorso del Tour du Mont Blanc attraverso Francia, Italia e Svizzera, con una distanza di circa 171 km e un dislivello totale di circa 10.000 metri. È considerata una delle corse a piedi più difficili al mondo e una delle più grandi, con oltre 2.500 partecipanti. La Maratona è stata una distanza di un'unità 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 di un